Gli impegni per il sociale, la salute e il territorio. Nell'agenda dell'ex assessore comunale Francesca Scarabeo, cinque mesi dopo la sua uscita dalla giunta, avvenuta per mano del sindaco di Serni a Castrataro, la senologa torna in campo con una nuova associazione, AST, questo il sintetico acronimo che dà nome al progetto. Alla base dell'acronimo c'è ambiente, salute, sociale e turismo. Sono tutti temi che noi adesso vogliamo, dei quali ci vogliamo occupare e cercheremo di portare l'entusiasmo che con difficoltà però comunque sono riuscita a ritrovare. Diverse le proposte del gruppo. Per la sanità e per la salute noi possiamo fare tante cose. Una delle cose alle quali sono sempre stata sensibile e che forse adesso è il momento giusto anche professionalmente per me affrontarlo e quello della tutela dei pazienti oncologici terminali. Per carità il distretto fa tanto, esiste l'assistenza all'Aido, l'Ado, però non è solo quello. C'è bisogno di fare altro. Io vedo ad esempio nelle altre città c'è la Vidas, che è un'associazione che si occupa dei pazienti a casa dove si fanno anche alcune terapie domiciliari ed è una cosa che da noi manca e che si potrebbe fare. Per noi è molto importante l'ambiente e quindi bisogna che adesso che anche la procura, la magistratura ha dato un segno importante sulle criticità del nostro territorio noi adesso come cittadini, come persone comunque sensibili daremo il nostro contributo sia con proposte, sia con sorveglianza, sia con anche raccolta fondi per fare delle verifiche. Per la Scarabeo la nuova esperienza rappresenta un modo di continuare il lavoro per il bene comune anche fuori da Palazzo San Francesco. Per il momento finalità solo sociali, ma non esclude nuovi impegni politici a patto che a cambiare siano determinate dinamiche il riferimento all'amministrazione comunale. La storia del comune la sapete tutti, quindi non è che io posso... e non voglio manco tornare indietro, però se noi teniamo queste... anche su gambe giovani abbiamo mentalità vecchia, vecchissima ma io non so veramente che cosa farmene cioè qua bisogna capire che il bene comune è il bene veramente dell'individuo altrimenti non si va da nessuna parte.